nella bella piazza della signoria a guppio al termine di un corteo in costume rievocante le glorie comunali del fiero centro umbro i balestrieri vitali a belgio austria svizzera hanno gareggiato in abilità rinverdendo un'antichissima e nobile tradizione che risale alle medioevali compagnie del popolo i balestrieri dell'era atomica si sono mostrati degni dei loro antichissimi progenitori sicché data la precisione la destrezza dei competitori l'esito della gara è rimasto a lungo incerto poi gli austriaci hanno imblocato una spettacolosa serie di centri e per gli altri non c'è stato più nulla da fare i proripoti di guglielmo hotel si sono dovuti accontentare della piazza d'onore in mancanza di una pallida castellana duggentesca il sindaco in persona ha premiato i vincitori